L'inserimento di un giocatore di grande esperienza come Costilla in questa Salernitana fa capire che si alza il livello anche della squadra in generale, di esperienza, di valore. Al di là di Costilla la sensazione è che la Salernitana abbia già le idee molto chiare su cosa fare, quanti arrivi ci potrebbero essere in questo mercato estivo, in questo mercato di agosto nella Salernitana e con la Juve discorso aperto per Miretti, Facundo Gonzales e anche Nicolussi Caviglia? Allora dal punto di vista numerico e delle posizioni che dobbiamo completare abbiamo le idee chiare e le abbiamo da un bel po' di tempo. Abbiamo anche degli obiettivi, alcuni sono stati di pubblico dominio, è vero che siamo interessati a Miretti, è vero che siamo interessati ad altri giocatori di cui i nomi sono usciti, altri nomi non sono usciti, probabilmente senza che ci siano, come è già successo per adesso, delle uscite importanti dalla Salernitana, noi siamo nell'ambito di 4-5 operazioni in entrata. Dobbiamo continuare a lavorare molto per le uscite perché quelle ne sono di più e speriamo di poter accelerare nelle prossime settimane. Ce la stiamo mettendo tutta, non è semplice, spesso ci scontriamo con delle richieste fuori luogo da parte dei giocatori e dei loro agenti e certe volte viene anche fuori un messaggio sbagliato di quello che è la Salernitana e di come la Salernitana possa anche rapportarsi a un certo tipo di trattamento per i giocatori che sono in uscita. Quindi in questo senso qua la Salernitana non è disponibile a scendere a compromessi che vanno nella direzione dove vengono soddisfatti solo ed esclusivamente i desideri delle controparti e mai considerate invece le necessità anche della Salernitana. quindi è un lavoro particolare, è un lavoro complicato ma sono fiducioso che più si avvicina il termine del mercato più tutti i nostri interlocutori ragioneranno meglio e avverranno più miti consigli e più miti richieste. Eccoci, direttore, due considerazioni, magari faccio una alla volta. Parto da Costil, con Oshoa, con Fiorillo, tre portieri ampiamente over, quindi grande esperienza, significa che faccio due rapidi conti in lista, probabilmente privilegierete in mezzo al campo questi innesti di cui lei sta parlando, li privilegierete under, cioè andate a prendere giocatori al di sotto dei 23 anni, un po' come i nomi che sono usciti, quindi almeno se può darci un chiarimento su questo. No, io rispetto alle 4-5 entrate di cui ho parlato non siamo in una difficoltà di lista, perché abbiamo 4 giocatori formati in Italia, abbiamo alcuni giovani che faranno parte della Rosa e quindi non entreranno in lista, al momento i giocatori, i 17 posti che abbiamo per la lista sono, cioè c'è tanto margine, c'è tanto margine, poi caso mai non dovessimo fare delle uscite ci saranno delle scelte dove quei giocatori che non fanno parte del progetto tecnico della Sernitana verranno esclusi dalla lista, però nella lista ci sono ancora ampi margini per poter inserire non solo giovani, se poi sono giovani bene, ma più che altro è un fatto di qualità, non è un fatto di esigenza regolamentare al momento. Vado a considerare anche che sul tema del portiere la possibilità dello spostamento anche a 15 minuti prima dell'inizio della partita c'è sempre per questioni di infortunio, quindi se non ricordo male siamo intorno ai 12, 13 giocatori nella lista di 17, oltre ai giovani, ai 4 formati in Italia, quindi abbiamo 4, 5, anche 6 posti, se sarò costretto a fare dei sacrifici al 2 settembre. Si è fatto un gran parlare naturalmente di DA, della clausola, clausola scaduta, avete tirato immagino anche un sospiro di sollievo. A questo punto se DA rimanesse, e le chiedo se ci sono state insomma offerte, se ha parlato anche col giocatore dopo la clausola, come sta, se si può dire oggi anche se è presto, siamo al primo agosto, ma se DA sarà l'attaccante della Sernitana, e a questo punto quando arriverà il più on-tech della situazione? Grazie. Allora, DA è un giocatore fortissimo, che ha sofferto un intervento a fine maggio per la pulizia del menisco, quindi sta svolgendo un recupero giusto, che in questo momento prevede la riatretizzazione e il ricondizionamento per poterlo vedere in campo. Non siamo preoccupati, i tempi li stiamo rispettando, anzi stiamo prendendo anche la dovuta cautela perché immaginiamo che DA, visto e considerato che non sono state mai ricevute offerte ufficiali da parte di un club, ragioniamo proprio che DA possa rimanere con noi. Quindi non abbiamo fretta, non abbiamo frenesia di voler mettere in mostra il giocatore perché siamo nella condizione di doverlo vendere, anzi ci concentriamo soprattutto sul fatto di preservare al massimo il suo ginocchio, di farlo rientrare solo ed esclusivamente quando lo usa al top della condizione, al 100%, evitando qualsiasi tipo di rischio. E questa è la logica, è una logica che va nella direzione che la Sernitana ha adottato da quando c'è il presidente Iervolino, è una delle società medio-piccole che ha investito di più sul mercato, l'ha fatto anche quest'anno e l'ha fatto quest'anno senza al momento vendere i suoi pezzi migliori. Quindi io chiedo a tutti quanti e sono qui anche per lanciare dei messaggi di positività, per rassenerare la piazza. La Sernitana alla conclusione del mercato avrà sicuramente una squadra forte e completa per fare in modo che come già tutti quanti siamo allineati dal presidente fino all'ufficio stampa, ai magazziniere, ai dottori, a tutti quelli che fanno parte di questo gruppo, quindi all'obiettivo che è quello di raggiungere la salvezza anche quest'anno il più velocemente possibile. Salve, salve direttore. Lei ha parlato di appunto 4-5 operazioni in entrata e quindi potrebbe concludere oggi, domani, insomma presto. Ecco, per Facundo, lei quando è uscita la notizia in Uruguay si parlava infatti di un interesse della Sernitana e della Juventus, quindi ci può confermare che è un giocatore che lei forse segue anche prima di quando l'aveva puntato la Juventus. Ecco, allora, il numero è quello, ci saranno 4-5 ingressi e anche i ruoli più o meno li conoscete, insomma parliamo di un attaccante centrale o comunque di un attaccante che possa fare l'attaccante centrale, possa giocare anche da seconda punta e poi ci saranno i due centrocampisti, poi a seconda di alcune uscite integreremo e cercheremo di fare il quarto e la quinta operazione se necessario. Sul discorso delle tempistiche, questo è un fatto che oltre alla considerazione di cui sopra, ovvero la Sernitana sta facendo dei grandi sforzi per consolidarsi e continuare ad essere protagonista nell'ambito dei propri obiettivi, anche sul discorso delle tempistiche vorrei essere chiaro, per fare una squadra e completare una squadra in maniera anche meno importante, meno performante, io assieme al Presidente e con tutta la società avremmo anche potuto accelerare di tempi e accontentarci di giocatori più facilmente raggiungibili, più facilmente tesserabili con la Sernitana, invece stiamo andando, come lo scorso anno, su profili che hanno innanzitutto la logica di capire se nei club importanti da cui provengono possono avere più o meno spazio, perché se noi dobbiamo andare a prendere dei giovani dalle società più importanti d'Europa, è evidente che questi giovani vogliono prima capire se in quelle società importanti hanno spazio, caso mai non ce l'avessero allora prendono in considerazione società come la Sernitana e quindi questo ritarda un pochettino le decisioni e i tesseramenti. Stessa cosa anche per altri giocatori importanti che hanno bisogno di capire il proprio percorso, il proprio progetto e che magari hanno anche la possibilità di ambire a squadre più importanti o che garantiscono oggi delle condizioni migliori di quelle che attualmente potrebbe garantire la Sernitana. Io faccio un esempio su quella che è stata la campagna acquista della Sernitana, i Candreva, i Dia, i Viena, i Piontec sono arrivati alcuni nella prima decada di agosto, altri nella seconda metà, alcuni alla fine. Quindi se vogliamo giocatori utili, adatti e forti al progetto della Sernitana dobbiamo necessariamente avere un po' di pazienza. Poi è vero che oggi possiamo avere degli obiettivi, obiettivi che per tutta una serie di cose, o per volere della Sernitana, o per volere degli obiettivi, o per volere delle altre società non si concretizzano però ne abbiamo altre ancora. Poi il mercato è talmente dinamico che quello che potrebbe succedere domani cambia oggi pomeriggio o cambia dopodomani. Quindi insomma ci vuole un po' di pazienza e sangue freddo. Però siamo a buon punto. Salve direttore, le chiedo se per quanto riguarda le uscite, quella di Simi in questo momento sembra essere quella più vicina alla conclusione. Poi abbiamo parlato di Dia, le chiedo se sono arrivati anche sondaggi, richieste, offerte anche per altri due pezzi freggiati che sono Mazzocchi e Lassana. Allora, per quanto riguarda le uscite è vero che ci sono delle trattative avanzate per Dia e Mantovani, questo sì, tra l'altro sono anche... Sì, scusa, per Simi e Mantovani, tra l'altro questo è anche uscito pubblicamente, insomma. Per Simi stiamo negoziando con la Danaspor e per Mantovani stiamo cercando di capire come la Ternana possa riportare Mantovani in Umbria. Valencia è molto vicino all'uscita, anticipo che caso mai dovesse succedere. Mi piace molto trasmettere un apprezzamento, un ringraziamento a un giocatore che dal punto di vista professionale è stato veramente impeccabile, un ragazzo meraviglioso al quale se nelle prossime ore dovesse capitare di concretizzarsi di questa opportunità gli auguriamo le migliori fortune. Tra l'altro dovrebbe essere un prestito, quindi... Per Valencia? Sì, per Valencia. Poi, per quello che riguarda Dia, ribadisco, non abbiamo avuto nessun tipo di richiesta ufficiale. Telefonate di altre società, direttamente da parte dei direttori sportivi o di intermediari, ce ne sono state tante, ma non c'è stata mai concretezza. La stessa cosa vale per gli altri giocatori che spesso sono sulla bocca di tutti, che finiscono sui giornali. Ad oggi vi posso dire che siamo veramente lontani dall'immaginare che la Serenitana possa rinunciare a questi giocatori che sono parte integrante del nostro progetto tecnico. Ok, grazie. Bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì. Gli giocatori dei possibili obiettivi. Martegani e Andrei Gonzales? Andrei Santos. Andrei Santos. Allora, Martegani è un giocatore con il quale stiamo discutendo con il San Lorenzo. Ho sentito anche della questione passaporto. Questo è un discorso che c'entra fino a un certo punto. Il valore del giocatore è un valore nel quale noi crediamo tanto. Io non ho nessuna preoccupazione a dire pubblicamente che stiamo negoziando con il San Lorenzo, anche perché ho anche il piano B, C e D, quindi non è un problema. Però è vero che è un giocatore che ci interessa e un giocatore che speriamo possa vestire la maglia della Serenitana. Casomai non dovesse succedere abbiamo già altre possibilità. Invece per Andrei Santos è stato un investimento importante del Chelsea. Io ho avuto modo di parlare con il Chelsea, però ad oggi il Chelsea non ha ancora deciso che tipo di... anzi, in questo momento ha deciso che Andrei Santos è un giocatore che farà parte della rosa della prima squadra. Quindi è un fatto giornalistico che non smentisco perché è un giocatore che ci piace, un giocatore importantissimo. Non lo smentisco ma siamo molto molto lontani dal fatto che Andrei Santos possa vestire la maglia della Serenitana. Mi sento anche di fare una percentuale che è vicina al 99%. Siamo un po' lontani dal livello che vorrei, credo si riferisse, sì, un po' alla completezza della rosa, ma soprattutto allo stato di forma della squadra. Siamo un po' lontani da questo inizio sprint sulla falsariga di come abbiamo finito, provo a riassumere e ad interpretare. Come sta vedendo De Santis al netto di chi deve entrare e uscire questa salernitana? È a livello che si aspettava? È d'accordo con il mister? C'è ancora tanto da lavorare? Un pizzico indietro, un pizzico avanti rispetto agli obiettivi che vi eravate prefissi per il primo agosto? Grazie. Alfonso, mi fa piacere che ci siamo fermati così mi hai fatto anche questa domanda. Allora, io sono un uomo di calcio, cioè proprio sono un uomo di calcio, la mia vita è il calcio, quindi tutti questi anni che sono stato nel calcio ho vissuto prima da giocatore, poi da dirigente, adesso da direttore sportivo, i periodi di preparazione col mercato aperto, le squadre che si formano, poi c'è anche gennaio, quindi per me questo tipo di sensazioni, anche di dichiarazioni, anche di stati d'animo è assolutamente comprensibile. Non mi sorprende, lo accetto, lo capisco, ma allo stesso tempo, ripeto, il mister è assolutamente consapevole di quello che vi ho detto prima. È in una società che ad oggi ha investito circa 20 milioni di euro per comprare dei giocatori importanti come D.A. e Pirola. Ha rinnovato il contratto di Ocioa, adesso ha tesserato un portiere esperto come Costil. Ha bisogno di tempo perché siccome noi vogliamo soddisfare le richieste dell'allenatore, siccome le richieste dell'allenatore sono le stesse che vanno nella direzione dell'ambizione della proprietà, di fare una squadra forte e di raggiungere questa salvezza. Io sono dichiarazioni fisiologiche di questo periodo, se a queste dichiarazioni fisiologiche vengono aggiunte, mi permetto di usare un termine, polemiche sterili, vi garantisco, sono un direttore sportivo giovane, sono arrivato da 12 mesi nella Sernitana, 13 mesi, quindi per me questo è tutto realmente comprensibile. La vivo così, mi guardi negli occhi, mi guardate, mi sentite parlare, la vivo veramente con la serenità di sapere che c'è una proprietà fortissima che sta garantendo alla Sernitana una crescita da 18 mesi a questa parte non veloce, velocissima e anche fatta bene. Magari sono stati sbagliati degli investimenti, può succedere, dobbiamo rimettere a posto questi investimenti sbagliati, ci costerà risorse economiche, ci sta costando un po' di tempo. Però non c'è un livello di tensione internamente alla Sernitana che possa condizionare il lavoro che stiamo facendo, non c'è. Noi faremo tutto quello che c'è da fare, se aspettiamo, se ci rallenta qualche settimana fa parte del gioco. L'anno scorso, se non ricordo male, prima della sosta del campionato c'erano quattro partite, è corretto? Di campionato, prima della sosta del campionato e quindi della chiusura del mercato, credo che ce ne fossero quattro, mi sembra, quattro più la Coppa Italia. Quest'anno ce ne sta uno in meno, perché sono tre, più la Coppa Italia. E comunque rispetto all'anno scorso, cioè, siamo più pronti. Adesso abbiamo avuto anche qualche problema di infortunio, questo non ci ha aiutato, però ci stiamo avvicinando nella forma giusta. Poi col mercato daremo un'accelerata e una chiusura appena possibile.